E' un nome, eh, e' un nome liberato... E' un nome liberato... E' un nome liberato... Anche lui non sta... Prego! Partire da una considerazione che faceva prima Andrea Tarossi che dice di La Versa... Si è un detto molto istituito della freddezza e che da altre parti, festeggi e da i occhi invece non li hanno presenti la... Lei che ambiente ha trovato e... e' sensazione ha avuto? Io... C'ho... C'ho un approccio nelle partite... Per me esistono le partite... Può essere in casa, poi in casa... Può essere a San Siro... Può essere nell'ultimo campo di periferia... Per me quando si gioca, si gioca... Quindi c'è lì... Se poi vuoi sapere cosa penso io... Questo lo dico... Io penso che... Me l'ho già detto... Quando sono arrivato... La squadra di calcio è chi li vuole bene... Chi è veramente di voi sta vicino... Quanto la squadra è insufferente... Quanto le cose vanno bene... Secondo me bisogna stare vicino... Quando le cose vanno male... Io lo faccio per dirvi... I mangi stanno bene... I mangi stanno bene... I mangi stanno bene... I mangi stanno bene... I mangi stanno... I mangi stanno bene... I mangi stanno bene... Leggermente calati... E... I mangi stanno bene... I mangi stanno bene... I mangi stanno bene... Guardare le avversare... I mangi stanno bene... E lì... Una squadra sicuramente... Molto più... Di categoria... Cioè... Una squadra... L'abbiamo vista anche... Sì... Una squadra più... Più tignosa... Più... Forse un po' più sulle motivazioni... In questo caso... Forse... Un caucho anche molto più... Estetico... Se... Lei mi parla di queste due squadre... Però in questo momento... sono molto focalizzato sui miglioramenti del bologno, ecco un'altra cosa, se non miglioriamo noi, se non cerchiamo di essere più bravi noi, non posso sperare nelle disgrazie altrui. Ma tra questi due qual è quella che si accoglia meglio, secondo me, quando ci riesco a giocare meglio? Questo è un discorso che è relativo, perché magari poi viene a fuori un risultato, dico una squadra viene fuori un'altra, se c'è quella che viene, viene, e noi ci dobbiamo copiare per forza per un'una di queste due. Più bravi in cosa? Cioè in cosa deve diventare più bravi? Nella gestione, soprattutto nel collegamento dei reparti, certe volte i reparti non sono collegati bene, certe volte c'è distanza tra i vari giocatori dei reparti, nelle due basi dei reparti, questi sono fatti i tecnici, però io devo anche vedere dei segnali di miglioramento, se non è che magari da un punto di vista manovra leggermente meglio, abbiamo fatto un'altra situazione, non abbiamo preso il gol anche se abbiamo rischiato di vendarlo, però in questo momento del campionato, voi mi vorreste fare una domanda ma non va la parte, cioè nel senso di Bologna ce la farà, cioè tutti questi, tutti io lo so... Sì, il problema è quello, voi siete qui aspettando che io vi faccia la letterina di Natale, farlo bravo, lo faremo, ci usciremo, non mi costa niente dirlo, cosa mi costa dire, però io penso, l'ho già detto, Natone dedicava le persone in base a quello che facevano, non a quello che dicevano, e mi sto lavorando per cercare di riuscirci, non so se ci riesco, questo è il discorso, però non mi costa niente dire che ce la farò sicuramente, però la gente si vuole sentire dire questo, io però non vedo il pubblico, io non vedo il pubblico, io non vedo il pubblico, vedo la sua professionalità e su questo metterò il mille cammino per farci che questo accade, perché penso che sia importante, e soprattutto ho bisogno di questi ragazzi, secondo me, l'ho detto prima, al di là di tutto, non andrebbero incitati, andrebbero aiutati questi ragazzi, perché secondo me è un crocevia importante, se non ci riusciamo, secondo me si può fare tutte le analisi che si vuole, però finché la pallarotola, lo ripeto, io starei vicino alla squadra, perché io non vorrei fare il discorso con la città di Presidente, ma rispetto alla ponte, comunque è la mia sensazione. No, 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 è un connesso da parte tua e questo non può che farle l'amore, la domanda iniziale sul pubblico è una scelta proprio da questa impressione che in un momento in cui invece ci sarebbe stato bisogno di... Sì, però io non posso dire agli altri come si devono comportare, cioè io non posso chiedere agli altri come... Io devo cercare di mettermi in condizione di portare gli altri dalla mia parte, che è diverso, cioè siamo noi che dobbiamo trascinare la gente, non è la gente che ci deve trascinare, in base al nostro attaccamento, in base a come giochiamo, secondo me ci possiamo trascinare la gente, però se la gente non riusciamo a trascinare, io non mi posso dire alla gente, venite allo stadio e incidateci, io gli dico solo cosa farei io, però io mi adopero qui, ci vogliono aiutare, mi fa piacere, non ci vogliono aiutare, è lo stesso, cioè io ci metterò sempre, io e i ragazzi ci metteremo il 110%, questo è poco ma sicuro. Non l'avranno chiuso la partita, Dario, gli ultimi 20 minuti sono stati infitti di un di un calo un po' fisico o del braccino a posto del termine? No, perché non ricevi da tanto tempo, dovevi ricevere per forza, un po' anche questo discorso qui, ma questo l'ho già spiegato un'altra volta, il fisico umano cerca di ottenere il massimo utile col minimo sforzo e questo non c'è niente di più sbagliato, nel momento stesso che vai in difficoltà e cerchi in un certo qual senso di non ricorrere ai ripari, rischi di andare indietro invece di andare avanti, lì la differenza tra una squadra di livello è una squadra che è leggermente in sofferenza. Non ti sembra un po' troppo leziosità, troppo accadeva nella finalizzazione perché si è arrivato, si è arrivato lì, dove serve Cattimedia con facilità, però dopo invece Cattimedia c'ha messo leziosità. Se mi lo metto è che prima non ci arrivavano neanche, quindi non sono abituati a arrivare lì, questo è il discorso, però è vero, ho notato anch'io perché secondo me si fa fatica ad arrivare lì, quelle volte che si arrivi deve essere, non c'era qualsiasi più deciso. E non so, lavorare quando c'è questo. Perché nelle scelte poi alla fine lì si arriva abbastanza come una capacità, poi le scelte sono tutte sbagliate. Sì, però è assolutamente un prodotto, un po' di frenesia, un po' di fare risultato per forza, se qui perda la palla cosa succede dietro, quindi sono tante di queste componenti, anche mancanza di solidarietà, la squadra è libera di testa, cioè sotto questo punto di vista, tutti invece devi fare risultato per forza, però è vero, anch'io ho avuto questa sensazione che magari con un fissile di decisione in più, quelle che sono passate lì davanti, ho certi pallonetti, secondo me lascio il tempo che trovo, anche perché mi rifaceva la paura, mi chiamava messi con gli altri, penso che voi ne abbia messi. Perché 80 minuti dietro non ha concesso niente, cioè stai in ultimi serpature, ma c'è quella quale ha preso la crisi inizia. Io è un attaccatore che non passa. Ma voi mi parlate sempre di caccia, io ho tanti altri giocatori, ma non mi chiedete di Troianello, non mi chiedete di Improta, non mi chiedete di Larieni che non ha giocato stasera, mi chiedete sempre di caccia, cioè sotto questo puntino, io c'erano tanti, e come ho detto ora in tempo sempre i miei figli, mi parlaste solo di uno dei miei figli, io c'erano tre di figli, perché mi dovete parlare solo di uno dei miei figli, gli altri che sono figli della serva, cioè questo, ma perché, cioè sembra che tutto sia negato al discorso di caccia, io faccio delle scelte, giusto e sbagliate che siano, però ogni volta mi chiedete di caccia, sembra che, cioè, per forza di cose che siano... E perché non me l'ha fatta chiesto, naturalmente? Almeno mi ha giocato, credo, in giù al pomeriggio e non lo so... Non mi chiedete di Improta, non mi chiedete di Bessa, non mi chiedete, mi chiedete sempre di caccia, poi magari faccio giocare caccia, poi mi dovete chiedere per forza di un altro, perché sennò non sapete che cosa chiedere, mi metto la prova, mi metto la prova, però io la prossima volta lo faccio giocare così non me la fai più, facciamo così, anzi facciamo il contrario, poi mi dite che devo far giocare, poi sbaglierò sicuramente, però la colpa non la fai più io, va bene così? Ma diremo di sicuro anche a voi perché è difficile che in questo momento sceglie nei unici... Ma siccome me la date a voi la formazione, però mi assumo io la responsabilità, però se io faccio giocare anche la formazione che dite voi, vuoi vedere che giorno dopo scrivete che ho sbagliato io? Sicuro... Sicuro... Ma signore, prima della partita l'ha detto che la cosa importante era vincere per trovare un po' di fiducia per sblocarsi ultimamente, si pensa che da questo punto di vista possa aiutare ha visto una relazione nel gioco di appoglio con la partita, ha visto qualcosa di loro un po' più sereno, un stress per poter dare un individuo da riguardo? Io dopo la partita, per forma mentale, ho visto i ragazzi sicuramente con te, questo è stato positivo, però per forma mentale, sia quanto succede quando ci vince, per me la partita è finita, anzi questo per me è un supplemento, per me era già finita prima, cioè un supplemento, io mi parlo, però questa domanda la faccio il martedì, martedì ho il momento della situazione, se magari ha fatto un sortito qualche effetto. Grazie. Grazie. Grazie.